connessione ci siamo, ci siamo, ci siamo voilà, voilà peccato, peccato, peccato my connection, my connection sorry, sorry, sorry guys abbiamo della connessione che fa veramente schifo oltretutto cioè, oltretutto oltretutto ebbè welcome, welcome, welcome everybody welcome everybody welcome everybody welcome everybody I write you the code I put you the code here again I'm sorry for this lag e u, v, v network disconnection in this case it's network disconnection in this case sorry, sorry e u, v, v, z, l siamo tornati bentornati bentrovati buon venerdì ma soprattutto buon inizio di fine settimana signori finalmente buon inizio di fine settimana si, ero un po' curioso ho letto tra l'altro che non si tratta di banda criminale e questo mi fa molto molto piacere e detto ciò eventualmente molto molto volentieri cioè se se non è segreto mi sembrava di capire che era un lavoro segreto però, però eh, vabbè abbiamo perso qualche giocatore jd facciamoci un paio di match io e te perdona l'attesa e nel frattempo qualcun altro e se era banda criminale non avrei potuto verificarlo quindi per me non c'è nessun alcun tipo di problema molto probabilmente ma non ne sono sicuro eh l'avrei allontanata dai miei contatti ma non ne sono sicuro anche perché però anche perché oh mi distrugge il signorino oh attenzione signorino occhio che il signorino mi distrugge occhio occhio il signorino ha detto che ma dai dio bon il bianchino ottimo ottimo eh allora non si tratta di una banda criminale ma dai quindi ve lo c'è lavorate per conto proprio avete una una ditta vostra c'è suo padre una ditta propria e lei aiuta aiuto suo padre ottimo lavoro cioè ottimo lavoro più che altro che io non riuscirei a fare perché non sono proprio propriamente un tipo manuale cioè se mi parli di cucina cambia le robe cambiano le robe però lavori manuali purtroppo purtroppo e dico purtroppo non mi sono mai piaciuti ok 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 sorry if I don't know I don't know speak english but it won't be a not good idea attenzione torniamo a fare la mossa della baciata funzionerà non funzionerà non funzionerà lo scopriremo solo in questo momento attenzione madonna quasi 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 gd raffanbrodo ti ho sciolto come un gelato al sole grazie grazie infinite io so cucinare bene mi fa molto piacere e qual è il suo piatto forte anzi qual è il piatto preferito e invece qual è il piatto che più le piace cucinare bravo gd complimenti ggg gg gg ho veramente sono troppo felice non si direbbe però ah ah qua chi è che c'è in line accetta accetta ok ok codice è sempre quello lì Fabio te l'avevo detto che mi sono allenato io spero che tu non mi stai adesso andiamo su citizen vediamo quanto ti sei allenato anzi potremmo dare un po' di spettacolo facendo 2v2 compo in realtà essere d'accordo io direi proprio di sì grande grande proprio soft ah sì peccato perché c'è un ventilatore che mi sta puntando alla schiena però troverò un rimedio diverso via l'anteprima che figata gaspita figo figo cucino cose che non esistono ovviamente senza carne e derivati visto che mangio solo verdura e frutta per etica wow ma in che senso cose che non esistono c'è stato periodo anche io nella mia vita in cui non mangiavo carne però purtroppo non avevo quella attenzione e quella responsabilità e quella voglia di andare a sostituire no le proteine al meglio e quindi dopo due anni succedeva sistematicamente che in ufficio tipo verso le 15 robe del genere mi venivano dei mancamenti proprio robe neanche da vedere e quindi purtroppo ho ripreso a mangiare la carne e poi è stata un'ottima scelta. al momento al momento non mi farebbe neanche tanto bene la casa sì però jd caspita non mi fai ammazzare in questo modo al cibo inventato da me wow ottimo di nuovo non mangia carne veramente ma da quanto tempo non mangia carne da quanto tempo è che non mangia più la carne io sono stato due anni mi sembra due anni e mezzo no forse poco meno di due anni saranno le ricette inventate da lei grande jd mi sapevo posso ricevere la vip no solo ora eh eh di già eh come si dice di già così presto? soon? well soon maybe maybe game o leak the vip is most important in this channel eh vede 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 che jd poi ho non si diventa al fine ci sono vari modi che non conosco per diventare vip perché proprio va messo a cuore no? però game o leak I'm sorry but not now not now not now dai 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 adesso vado a prendere un caffè sigarettina e poi ci rivediamo qua però non anche rare jd non anche rare ti prego cioè fai le robe fatte bene che tanto siamo forti uguali ecco lo dio bom grande grande jd se si lei metta pure su discord metta tutto no 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 metta tutto su discord ma lei cucufa non ce l'ha telegram non lo utilizza telegram che peccato un vero ma vero vero peccato eh un vero vero peccato si come direbbe il nostro carissimo claudio che tra l'altro invito a passare a trovare questa sera più o meno dalle 22 e 30 in poi che stiamo dando eh anzi jd gliele sta dando io sto facendo come sempre finta però eh man ce la siamo persa qua tuttavia tuttavia ma il game o leak you are in live maybe you can't enjoy with us I can't understand anything I'm very very sorry I'm very very sorry but my english it's very very bad very very bad si si mi invidi tutti tutto sul link sul discord che poi dopo I know I know game o leak I know game o leak unfortunately I'm a guy italian guy un vero peccato infatti cioè dovrei fare come coso intanto dovrei studiare prima di tutto dovrei prima trasferirmi dieci anni magari no in Ighilterra dopodiché dovrei fare provare a fare come come si chiama coso la like secret what do you mean what do you mean like secret dorei fare come Zebo89 iniziai a streamare in inglese però prima dovrei impararlo in inglese giustamente haha I know I know I'm so sorry ma vaffanbrodo va questo si sta citando ad esempio questo si sta utilizzando le cheat he he using cheat cheats f o door he uses cheat 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 oh no ok ok it's ok it's ok it's alright it's alright I will do you learn english so I can talk to you eh no no sarebbe meglio che I would be like learn english maybe ah ah ma qua sto giocando porco camera vai si vabbè ciao 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 do you know something something about what something about what a fine live si si non apro più l'applicazione di discord per il bene della stream purtroppo a parte che se se mi metto un pinguino qua raffreddo tutto caspita in india one thing is so famous about italian berlusconi berlusconi pizza 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 con l'ananas venice venezia italian pizza yeah spaghetti pizza spaghetti mafia pizza spaghetti mafia pizza i know norah sisters i follow the norah sisters do you know maybe norah sisters i love i love norah sisters i love i love norah sisters so much so much great great music great spiritual music i i i i love i can cook a very nice italian pasta yes i'm sure i'm sure you 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 can't cook so well but you can you can try to learn vaffan drode colosseo di roma torre di pisa and alt yes for sure you 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 love norah sister i love i love to norah sister se non ci fossero il copyright lo metterei metterei su anche adesso devo dire spelling for that please so i can google it ah ok try to search n o r a h sisters no problem you you found it very very soon anche anche se lo scrivi sbagliato norah scrivi così tipo nora sisters ti viene fuori lo stesso sicuro nora sister not not right right but not right right but ci vediamo i cucufa grazie mille buon pomeriggio cancer ok it's ok buon pomeriggio buon pomeriggio i cucufa anch'io adesso tra poco vado in pausa it's always something something different ah give me one moment i i i let you see nora sisters queste qua mamma mia veramente adoro dio bonso adoro queste non sento niente però eh si do you know know it e google is funny sure queste qua noran noran about this what this what this andiamo a sciogliere l'altra gente andiamo andiamo lo spero perché qua ooooh piramidio firmero Va vaffanbrodo va Ok ok No problem Ho perso comunque Ho perso I love Noran's sister Grande grazie Popo soft Ci vediamo presto E grazie ancora infinite per la chiacchierata E per gli spunti Grazie infinite Oh you know them It's ok A presto a presto Buon inizio di fine settimana anche a lei Io adesso andrò a prendermi un caffè Evviva evviva Yes yes pretty good voice Pretty good voice for sure Allora approfitto Dato che è andato via anche JD Facciamo così vi lascio il codice in chat Grande JD Vi lascio il codice in chat Chi vuole entrare Può entrare Io mi assenterò per qualche minuto E uvv E uvv La legge di E uvv Intrattieni eventualmente la chat E uvv ZL Si legge anche il codice Quindi signori Grazie mille per essere rimasti in ascolto fino a questo momento Ci vediamo veramente tra pochissimo Andrò a prendere un caffettino Andrò a prendere un caffettino Preparerò un bel cigarettino I think it will take the cake for me to speak Italian like you I hope I hope I hope you can speak Italian better than me Because I don't speak Italian Hello hello Dario Hello Hello Nice t-shirt Thank you so much Do you like mojito? Mojito? Do you like mojito? Yes 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 It's a drink It's a drink 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 Alcoolic drink Alcoolic drink Grande GD Grande Oh ci vediamo tra poco Dario sei arrivato proprio nel momento in cui sto andando a Come va? Come va Dario? Ci siamo visti su TikTok forse anche Dai ci vediamo tra poco Vado a prendere un caffè I bring coffee I bring coffee I bring coffee Ci vediamo tra poco signori Alla prossima 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 No Alla prossima 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 ma immagino immaginosi di peccato mamma mia sfiorata ne ha sfiorato un colpo di se vabbè cioè vabbè allora steve omega ma tu sei forte oppure stai citando mi sa che è forte steve omega mi sa che è parecchio forte madonna siamo già a due ore di live anche se probabilmente dal counter risulterà molto meno perché ci siamo disconnessi porco giuda eh vabbè abbiamo ancora non tantissimo caspita abbiamo dieci minuti di tempo signori però se è così cioè che riesco a giocare a 1v1 lolla io probabilmente ci vedremo anche stasera è molto molto probabile figurati se non ritorno figuriamoci se non ritorno faccio raffreddare un po tutta l'attrezzatura proviamo a fare canse perché qua mi sa che qualcuno è uscito infatti attenzione steve omega steve omega che ci delizia con dei balletti sublimi studiato nella danza classica o caraibica steve omega facci sapere facci sapere Dio santo è stata l'ultima l'unica volta che ho beccato omega questa qua mamma quasi 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 sto fumando con una mano quindi cioè sono proprio anche un po' più meno che live raga che super live ma va a fa un drone va che figata peccato per l'interruzione di della linea anche perché vuoi che non ricarico su youtube sta live il ritorno del king però dovrò caricarla in due parti in quanto appunto a metà da circa 9 un po' mezz'oretta fa purtroppo ci siamo sconnessi però grande steve omega forte steve omega sei un amante degli orologi anzi facciamo così che magari chiudo la live per niente e fare un tentativo e se vuoi ci possiamo trovare tra un quarto d'ora 20 minuti siamo rimasti solo io e il signor steve omega tuttavia faremo l'ultima l'ultima partita steve omega quindi 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 nel frattempo io inizio veramente a ringraziare tutte le persone che si sono collegate fino a questo momento tutte le persone che ci hanno fatto compagnia vi ringrazio davvero tutti soprattutto con questo delizioso sottofondo musicale che non sono convinto voi sentiate però però c'è 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 ma vaffanbrodo dio santo dio pro player pro player raga ma si dio santo stecciato eh grande grande sono io ci vediamo presto eh grazie mille mi ha fatto veramente un sacco piacere mi ha fatto veramente un sacco piacere tornare su uno di uno lol spero tu sia eh spero ti sei divertito anche tu perché io mi sono divertito veramente tanto e questo sarà l'inizio probabilmente del ritorno del king questo sarà probabilmente l'inizio del ritorno del king cosa intendi dire chi di vita c'è chi di morte di hacker subisce di morte di hacker perisce ciao caro jd a presto non mi hai neanche detto perché non hai giocato ieri sera non hai partecipato al concorso però però ci siamo raga siamo arrivati siamo giunti al termine siamo giunti al termine siamo giunti al termine di questa spettacolare live che mai mi sarei sognato di fare ma non ho idea di numeri di niente non mi interessa lo verificheremo più tardi però ci siamo veramente divertiti tantissimo signori tantissimo io sono veramente molto molto ma molto ma molto felice niente continuo a ringraziarvi vi auguro di splendere ma soprattutto vi auguro di continuare a riflettere la vostra sapienza la vostra illuminescenza la vostra gioia la vostra bellezza tutto ciò che di buono potete diffondere a proposito di fondere condividere vi dispiace che non siamo riusciti a condividere la nostra news positiva inizio live però ero molto molto ero in frenesia perché volevo capire appunto se uno vive un lol ci poteva dare ancora soddisfazioni cosa che si è come dire avverata e siamo molto molto felici non ho più uno start in su non ho più un grazie per averci seguiti quindi probabilmente ci saluteremo in un modo totalmente diverso signori che dire vi ringrazio grazie infinite per avere come dire seguito questa live mi ha fatto un sacco piacere anche rivedere un sacco di persone che era da tempo che non passavano sul canale quindi mi raccomando dai e sempre fatevi vedere e ci vediamo presto signori ci vediamo veramente 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 presto